buonasera a tutti oggi c'ho la mia penna magica io siccome disegno e quindi dipingo quindi ho un sacco di materiale che poi compito in uso eccetera eccetera più in compenso delle penne finite che tengo per non si sa perché non è stato chiarito questo mistero un po' come il mistero dell'isola di pasqua che servivano quelle statuone grosse, quei capoccioni grossi a niente, non serviva a niente, gli piacevano quei capoccioni e così la mia penna esaurita che è un simbolo tanto neanche tanto che se penna esaurita dicevo, oggi stavo facendo i codici a barre, la cop, ma anche i libri hanno i codici a barre insomma i codici dei libri che vanno inseriti nelle cose, tanto che tra che tutti quei lavori orripilanti che ci fanno fare, il ministero ci fa fare, perché ci ricatta, ci ricatta, questo ricatto anche gli acquarelli, gli acquarelli, avevo comprare degli acquarelli decenti per iniziare a fare acquarello avevo degli acquarelli molto buono, anche una multa liquidare, non so, sicuramente non c'ho anche la macchina, non so che multa l'hanno fatta no, se avessi saputo tutto questo quando mi dedicai all'ammonto della scuola, mai tanti anni fa ma quasi quasi avrei fatto lo sceneggiatore di Killing che secondo me era un mestiere più magari t'arrestavano, però conoscevo gente interessante in carcere, chi lo sa hanno avuto un'esperienza di vita interessante, ma parliamo di scuola, parliamo di scuola no, dicevo, ho visto vari video su youtube anche, vabbè, ci sono canali appunto che fanno che fanno, sia un po' di fumetti, altri fanno altre cose, penso che ognuno possa fare un po' quello che gli pare e questa sia la cosa migliore, io faccio recensioni di fumetti, ho chiamatele come vi pare, chiacchierate sui fumetti, anche poi quando io parlo di fumetti parlo tendenzialmente di altri, la mia filosofia è parlare di fumetti per parlare di altro, a volte ci riesco, a volte di fumetti, mi è stato chiesto, di inizio ha fatto un'intervista sulla Bonelli, magari ne parlerò, però sono 40 minuti, o la stasera di 40 minuti, ma ce la farò, ce la farò obbi, vi parleremo poi della Bonelli e del fumetto italiano, che è un argomento che mi interessa, uno studente mi ha chiesto un diario, che come io faccio fare di un diario, ma ha scritto che, vabbè, le sue impressioni su varie cose, poi mi ha fatto la domanda brutale, ma lei, perché gli piacciono tanto i fumetti, è una bella domanda, che ovviamente ha detto, ma scusa, ma so io che correggo te, ma va benissimo l'inversione dei ruoli, e gli ha risposto, perché io sono cresciuto con i fumetti, sono cresciuto agli anni 70, quindi è difficile spiegare il passato dai giovani, insomma, si letta così, è brutta sta vostra fase, quindi nei miei tempi il fumetto, Topolino, anche leggere tutte le settimane un Topolino, era qualcosa che oggi non è facilmente spiegato, per cui leggevo Topolino a 6-7 anni e continuo a leggerli anche oggi, non regolarmente o all'epoca, ma l'almanacco Topolino lo leggo sempre, e non mi sento, cioè io non ho le classifiche, cioè non ho l'alto e il basso, cioè non c'è Platone e Topolino, per me è tutto, tutto, citerò la frase latina, umano sum, omosum, nillumani, alienum, ni puto, cioè sono uomo e tutto ciò che è umano mi riguarda, quindi il fumetto è un'attività umana, quindi perché non mi dovrebbe riguardare, perché non è Platone, non è Tastoi, non lo so, non lo so, ma è difficile spiegare, naturalmente chi fa video su fumetti sa bene che io ho già raggiunto 688-89 iscrizioni parlando di fumetti, penso che sia un grande risultato e va bene così, poi naturalmente io ho un altro lavoro che è quello di insegnanti, quindi non mi interessa scalare le vette del successo, si può non crederci a questa cosa, ma naturalmente se avessi previsto una strategia di marketing, una strategia di... ma io non ho tempo, onestamente facendo un altro lavoro, ho tempo di parlare 10 minuti al giorno di fumetti, sì, mi ritaglio 10 minuti e ne parlo, è così, un po' alla buona, se dovessi organizzare il canale, se dovessi... quello mi richiederebbe del tempo che non ho onestamente perché faccio un altro lavoro, quindi c'è sempre la distinzione tra hobby e lavoro, se è un lavoro è un'altra cosa, se questo canale fosse un lavoro sarebbe un'altra cosa, è un hobby è un'altra cosa, per chi ha... vuole, insomma, vuole... come disegnare, cioè non è che disegni per esporre una galleria d'arte, se ti piace disegnare lo fai, è una cosa che non puoi smettere di fare, insomma, questo è un altro discorso. Invece parleremo... quindi detto questo, ovviamente un video sulla scuola, di che senso ha, nel senso che, appunto, tra le varie cose, li preparano anche la scuola. Stiamo a fine anno scolastico e possiamo anche chiederci, finito quest'anno 2021-2022, ormai manca poco, un mese, poco più, ci chiediamo angosciosamente... lasciando perdere tutta la storia della pandemia, che ha dato dei colpi abbastanza ferari alla scuola, la scuola si è salvata grazie ai professori, non grazie allo Stato, che hanno ovviamente fatto un lavoro straordinario, non parlo di me, ma... ma che non gli è stato riconosciuto, tra l'altro, è stato sempre in Italia, è passata la festa, è gabbato l'usanto, è passata... che si è passata la pandemia, poi non ne sono così sicuro, scusate, ma... in Cina e in India ci stanno combattendo ferocemente, quindi l'abbiamo deciso, è passata, va bene, però non vorrei che ci... perché di solito inizia in Cina e poi arriva da noi, poi in Cina... e ora c'è il momento clou di questa nuova ondata, poi quando passa in Cina però arriva da noi, vabbè, speriamo, sia la ragione del governo e che sia tutto passato. E ovviamente abbiamo avuto la didattica a distanza, eccetera, però quello che mi chiedono è un discorso più generale sulla scuola, cioè dove stiamo andando, chi siamo, dove stiamo andando... Cioè, intanto, dove si fa questa domanda? Chi sono? È la domanda che si fa a Pico della Mirandola nell'Orazio di Omini Stignitati, cioè chi sono io? Se Pico della Mirandola, sì, detto Pico, è capito, anch'io sono Roberto Venturini, ma il nome... Se mia madre mi chiamava Mario, non è che mi venivano i capelli biondi, non è quello il punto, cioè chi sono io, che cosa sono io, che cosa rappresento in questo universo, che mi hanno fatto affare, me ci hanno mannato o ci sono venuto da solo, cioè... la mia esistenza ha un senso oppure se ne può far meno, questa domanda che sembra stupida, ma è la domanda che dobbiamo farci tutti noi, ma il nostro essere in questo mondo è necessario o casuale? Cioè, vuol dire, se non ce l'ho io, vengo, muoio io, vengo sotto... la mia apparizione su questo mondo c'è perché è stato un caso, i miei genitori si sono sposati, mi hanno messo al mondo, se non mi mettevano al mondo qualcun'altro avrebbe messo al mondo qualcun'altro, e il mondo andrà avanti lo stesso, può essere tutto questo vero oppure c'è un disegno logico e tra chi crede in Dio e chi non ci crede, tutto lì dal discorso, cioè chi crede in Dio crede che ci sia un motivo delle cose, chi non ci crede pensa che sia dovuto al caso. E tutto questo discorso ci porta anche alla scuola, cioè dove sta andando la scuola? Nel senso, un'utopia della scuola è possibile oppure ci siamo arenati definitivamente una sorta di sopravvivenza, di sopravvivere anche alle pandemie, eroicamente, penso appunto gli insegnanti abbiano combattuto a modo loro eroicamente, non contro la pandemia, io mi sono preso anche il Covid, un mio collega è morto di Covid, ci ripensavano i giorni scorsi ed è morto di Covid, dalla sua peggiora mia stessa età, ma veramente queste persone... e questo è accaduto, cioè non è che me lo sono sognato io la notte, non è che, oddio, oddio, ora non faccio nomi e cognomi, ma potrei farlo, talmente, è un collega con cui ho lavorato tanti anni nella stessa scuola, quindi è un pensiero pesante, cioè per me è un pensiero pesante questo pensiero, quindi quando si sottovaluta la pandemia, insomma, secondo le persone ci sono morte in questa pandemia, naturalmente è una minoranza, però quella minoranza c'è stata, per fortuna è stata una minoranza, quindi quello mi chiedo io, dove stiamo, cioè che cosa... cioè la scuola tendenzialmente è quell'oggetto, quell'essere misterioso, quella cosa misteriosa, dove anche i genitori mandano i figli a scuola, ma si chiedono ma perché ce li stiamo mandando, io vado all'elementare perché poi andrò alle medie, perché poi andrò al liceo, perché poi andrò all'università, perché poi andrò, prenderò un buon lavoro, perché poi morirò e basta, e la canzone dei C.S.I., che lavora, consuma, crepa, insomma, questo è il concetto. Allora, o la scuola, la formazione di... cioè un tempo la scuola aveva il compito, come nell'antica Roma, di formare, di formare, cioè devo formare un oratore, quindi devo avere qualcuno, devo formare qualcuno che sappia usare le parole in certo modo, che invece un'aula di tribunale in un senato sappia usarle, quindi non mi interessa la formazione generale dell'individuo, mi interessa creare un lavoratore, una creatura, un qualcosa di specifico. Poi c'erano le scuole filosofiche e un'altra cosa, però l'educazione tendeva tendenzialmente a questo, le scuole di etoriche, di sofistica, ti insegnavano a usare bene la parola. Nel Rinascimento si è cominciato a pensare all'uomo universale, se un uomo che, insomma, sì, naturalmente questo valeva per i ricchi, i poveracci, andavano a zappare la terra, però nel De hominis dignitate di Pico da Milano c'era l'idea di un'educazione universale, addirittura dell'unione, della fusione delle tre grandi religioni, tutto questo. E poi la scuola è andata in mano ai religiosi, che ovviamente fino all'Ottocento la scuola era in mano ai gesuiti, ma quindi era una scuola religiosa che ovviamente formava, che formava? I gesuiti erano molto bravi, hanno sviluppato dei sistemi di insegnamento molto buoni, io, pur essendo dall'altra parte, da un'altra schiera, però tra l'altro sia Fidel Castro, che Stalin sono usciti da scuola di gesuiti, no, questo non è proprio... Sia chiaro, da gesuiti hanno formato Stalin, ecco, quindi vabbè, non credo che, insomma, vabbè, ognuno la veda un po' come gli pare. E detto questo, quando nel 1861 ci fu l'unità d'Italia, la scuola serviva ancora a trasmettere almeno una capacità di legge, di scrivere, questa è quella che funziona la conoscenza della scuola, è dare alcune nozioni di storia, o di matematica, di scienza, eccetera, eccetera. Naturalmente questo, per chi poi... E chi doveva andare al lavoro, tendenzialmente neanche ci andava a scuola, andava direttamente in officina, si faceva anche, ai miei tempi, chi faceva il meccanico andava in officina, imparava il mestiere dal meccanico. Se volevi fare il panettiere, andavi a bottega dal panettiere. Oggi come oggi, queste informazioni che la scuola dà, se io spiego la riforma protestante, che sto facendo ora, in realtà le cose che dico io si possono trovare in rete, senza grossi problemi, non è che... e Lutero appiccicò a vittime dei 95 tesi, non è che è una cosa che so solo io, ma sa solo il Ventolini. Naturalmente, allora, a che serve il professore? A che serve la scuola? Ah, è uno strumento archeologico superato che speriamo che o poi sia definitivamente mandato in pensione. Avevo fatto un lavoro con gli studenti, questo è l'appunto, e naturalmente le informazioni si trovano su Inter, si trova tutto. Naturalmente, quello che dovrebbe fare la scuola è aiutare gli studenti a gestire queste informazioni, a trovarle da soli. Ovviamente, ha una competenza linguistica che secondo me è quella più fondamentale, anche scientifica, però quella linguistica... Però stiamo facendo tutto questo, lo Stato sta andando verso questo. Molto spesso ci si lamenta, per esempio la scuola non è più formativa, eccetera, eccetera. Però, secondo me, secondo me, quello che manca nella scuola e anche di chi si occupa di scuola, siamo uno Stato che continua a investire in armi in ogni scuola. Salvo fare tagli, avere gli stipendi più bassi d'Europa, naturalmente io come lavoratore, anche mettiamo un puntino sulla... Io sono un lavoratore, non sono un missionario, cioè anche l'idea di Don Milani che ha avuto un grande successo in Italia, ma Don Milani era un prete, e lui faceva il prete. Come prete aveva quest'obby che era la scuola, è come io che faccio i video su YouTube, è un hobby. Non mi pagano per fare questa cosa qui. Quindi Don Milani era totalmente slegato da un'ottica di dover essere retribuito per insegnare. E' una cosa sgradevole da dirsi, ma va detto che lui aveva comunque, come parroco di Barbiana, aveva uno stipendio o qualcosa che gli arrivava in tasca. Quindi non aveva bisogno, non aveva famiglia, e quindi questo lo poneva in una posizione di indipendenza anche rispetto a chi... alla scuola che criticava. Cosa che un insegnante non può fare, perché l'insegnante è dentro un'istituzione pubblica. Nella scuola che faceva Don Milani, perché i professori non la facevano? Perché loro non la potevano fare. Non perché erano cattivi, sì, alcuni erano cattivi, parla uno che è stato bocciato a 15 anni, quando morì il suo padre, che è bocciato. Però, pur essendo cattiva, anche alcuni professori che avevano ovviamente, nasce sempre la sindrome del sergente, aveva un po' di potere, ne abusi, ma è quello che... Tutti quelli avevano un po', non tutti, però a volte c'è questa sindrome, aveva un po' di potere, in una classe, ne abusi, ne abusi nel senso che diventi un tiranno spietato, o sfogli le tue ansie e frustrazioni in una classe, quelli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anni. Esistono questi casi, non dico che non esistano, però voglio dire, la struttura della scuola, a parte i casi devianti, è già formata, cioè tu entri in una classe e ci sono 25 tavoli, 25 sedie schierate e una cattedra. E tu non è che puoi dire al custode, porti via i banchi e si fa lezioni per terra, il custode non li porta via. Cioè, quello che poteva fare Don Milani, noi non lo possiamo fare, questo sia chiaro, perché io, quando vado dentro una classe, mi metto in un luogo mio, in fondo Barbiana, la fioria, era la sua casa, quindi poteva fare un po' quello che ci pareva, dentro la sua, se Don Milani pigliava a calci nel sedere uno studente, qualche volta, non dico, lo poteva fare, se glielo permettavano i genitori, però, voglio dire, non aveva solo il controllo dei genitori, l'epoca si faceva, nel senso, qualche scapaccione partiva, anche nelle scuole. Mentre noi siamo comunque dipendenti statali, quindi io non posso fare quello che mi pare, questo sia ben chiaro, quindi io sono un lavoratore come tale, ho degli obblighi, che a volte rispetto malvolentieri, ma ce li ho. La votazione, la valutazione dello studente che ha fatto su base numerica, per me la base numerica è terrificante, perché devo dare dei numeri a degli studenti, certo, se uno gli dà 10 è contento, se uno gli dà 4 è scontento, però, secondo me, non è questo il metodo di valutare degli adolescenti, non è, sembra un po' il gioco dell'otto, le narotte, perché sembra un po' il sistema dei cani di papo, in senso, ti do il biscottino, oppure ti do la punizione, cioè, non deve essere questa l'educazione, secondo me, l'educazione dovrebbe essere una valutazione tu hai fatto un lavoro, io ti valuto, ti dico cosa che non va e chi se ne frega del voto, io ti dico hai sbagliato questo, questo e questo e basta, e questo devi capire, poi che ti metta 10 o 37 non conta niente, come quando tu fai un lavoro, un quadro, se ti ciasca una macchia di colore nel mezzo della faccia, che io ti metta 10 o 2, non cambia niente, la macchia rimane lì nel quadro e quindi devi ricominciare da capo, non ci sarebbe neanche bisogno che ti rendessi un voto, lo capisci da solo, il voto complica le cose perché naturalmente mi dà un potere, la famosa penna, il mio simbolo è la penna vuota, nel senso che questa penna sarà stata rossa o nera, 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 perché si capisce, però voglio dire che questo potere che io ho non lo gestisco con, c'è chi piace avere il potere, naturalmente, io non ho mai avuto piacere, ma tutto questo per dire che questa scuola alla fine siamo ancora con le valutazioni numeriche nell'Ottocento, siamo ancora in una scuola che dice non bisogna fare la lezione frontale, ma siamo una struttura fisica che non puoi non fare la lezione frontale, a parte la pandemia, non la puoi non fare perché la lezione frontale è l'unico, quello spazio lì angusto, con 25 tavoli dove non ti muovi, che se 25 studenti si alzano tutti insieme si fanno male, non sono spazi aperti, non si può uscire all'aperto dalla scuola, non si può farlo, o se si fa si fa il nostro rischio e pericolo, se si porta i ragazzi fuori siamo al nostro rischio e pericolo, eccetera, eccetera, e tutto questo allora stiamo andando verso un'utopia scolastrica, l'utopia ce la siamo smarrita, anche noi che ci lavoriamo tendiamo purtroppo a fare la nostra routine quotidiana, a fare spiegazione, interrogazione, spiegazione, interrogazione, siamo assorbiti da questa sorta di macchina infernale che a voi io cerco di farmi assorbire, ma è sempre difficile perché la macchina infernale tende ad assorbirti, tende a trasformarti in un qualcosa di meccanico, tu fai le cose meccanicamente, spieghi il componente oggetto, rispondi alla domanda chi, che cose, vai avanti così, fin alla pensione e poi dal vecchio continui in casa di riposo, c'è un infermiere davanti che dice il componente oggetto che vuoi da me, io ho mai fatto la scuola, ed è quello che manca a un progetto secondo me di una scuola che superi la scuola, ecco, secondo me la scuola dovrebbe superare la scuola, una scuola ottocentesca verso la quale tanti hanno un rimpianto perché molto spesso leggi persone che dicono ah, quando c'è da quel tipo di scuola c'è il fascismo, non mi sembra che abbia dato grandi risultati, se vent'anni di fascismo sono un grande risultato, certo, quel tipo di scuola ha funzionato alla grande, visto che si parla di 25 aprile, se la scuola è un progetto di creazione di un individuo armonico che crei una società nuova è un'altra cosa, non mi sembra che ci sia questa volontà, non mi sembra che lo Stato e lo Stato in quale vivo, il Paese in quale vivo abbia questa voglia di fare questo, mi sembra che sia una scuola che tenta sempre che abbiamo il registro elettronico, la DIN, ma che tutto cambia affinché tutto debba rimanere uguale, e leggendo un libro come questo che è dell'87 quando andavo a scuola, io non vedo, sì, certo, c'è il registro elettronico, c'è la DIN, ma non vedo una differenziazione tra gli insegnanti come erano negli anni 80, ecco, cioè, l'insegnante dopo il 68 tentò di rivoluzionare questo metodo, questa, ma alla fine c'è sempre come una forza di gravità che ti trascina verso quel tipo di scuola che tu stai dietro la cattedra, interrovi, spieghi, interrovi, mette voto, spieghi, interrovi, mette voto, e finisce tutto lì, come una sorta di spettacolo teatrale che va avanti all'infinito senza speranza di miglioramento. Questo mi pone un grosso problema con la scuola o con il futuro della scuola perché non vedo onestamente un futuro della scuola così come oggi, cioè, io non riesco a pensare che bambini che nascono oggi in ospedale sarà nato qualche bambino anche se il 25 aprile ma penso che sia un ospedale, io ci ho lavorato in un ospedale quindi so che sono sempre aperti e quando questo bambino che è nato oggi il 25 aprile del 2022 andrà fra cinque anni quattro cinque anni prima all'asilo poi ripeterà stancamente questo calvario mi ricorda proprio la via crucis io se penso alla mia scuola quando andavo a scuola io penso quasi a una via crucis a un calvario che deve essere espletato eccetera eccetera e poi esci dalla scuola e ti chiedi il perché di tutto questo perché ho dovuto patire tutte queste cose perché ho dovuto per avere dei bei ricordi con i miei compagni di classe certamente poi dicevo ma non è che mi ha dato la scuola è come essere militari insomma certo che ha dei bei ricordi non del militare dei compagni militari in senso che è un'altra cosa che dire che il servizio militare è bello perché hai trovato delle belle persone che soffrivano insieme a te non vedo un progetto di una scuola diversa non vedo un progetto di una scuola aperta fluida dove magari lo studente esce di classe si vado alla classe cioè l'idea ancora delle classi chiuse cioè io ho la mia classe e sono chiusi 22 disgraziati o 20 disgraziati che per un paio d'ore devono stare per forza assenti in me e a un certo punto lo studente si sarebbe alzato e dice ma io voglio andare a sentire la lezione di quell'altro ma come si fa potrebbe in teoria perché no ma noi insegnanti per prima abbiamo paura dei cambiamenti ne abbiamo un terrore terrore folle ma dei veri cambiamenti non dei cambiamenti come quelli che sta facendo il ministero del reclutamento o di ridurre il liceo da 5 a 4 anni che miglioramento è abbassi gli anni di studio cioè come dire invece di darti un chilo di pane te ne dà mezzo tanto ci mangi uguale non mi sembra una cosa non mi sembra un grande risultato forse dobbiamo mettere un po' meno anni di scuola perché dobbiamo comprare armi cioè questo dal punto di vista militare può essere un lato positivo ma dal punto di vista educazione anzi altro che 5 6 anni in più perché formare oggi le persone gli studenti dovrebbe impegnarci ancora di più metterci più tempo non abbassare la sticella ma non so se queste mie valutazioni abbiano qualche senso ex capdera ex capdera è volutamente scritto male domenico sterno oggi ho parlato ex capdera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti